Quattro colpi di fucile da caccia hanno centrato Gesim Dodoli, albanese 59enne, dei cinque sparati contro di lui da Sandro Mugnai, 53enne a retino, la cui casa veniva assalita dai colpi di ruspa. Lo ha confermato l'autopsia eseguita al Policlinico Le Scotte di Siena, per i risultati definitivi dell'esame invece occorreranno 90 giorni. Mugnai, anche in base all'autopsia, quella terribile notte del 5 gennaio ha rivolto a terra il primo colpo della sua carabina, nel tentativo di dissuadere il 59enne dal continuare la sua opera di distruzione della colonica. Poi quattro colpi esplosi contro l'uomo, tre spari lo hanno colpito all'addome, uno alla spalla. Alla base del gesto ci sarebbero state liti tra vicini che andavano avanti da anni. Lunedì sarà poi eseguita la perizia balistica sulla carabina per la calcio al cinghiale, regolarmente detenuta, con cui Mugnai ha sparato. L'esame è stato assegnato dalla procura di Arezzo Arracis dei Carabinieri di Roma. Poi le carte torneranno sul tavolo della PM Laura Taddei, che dovrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa oppure andare avanti nell'inchiesta. Nei giorni scorsi il GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini aveva rimesso in libertà Sandro Mugnai dopo l'udienza di convalida dell'arresto. Secondo il giudice avrebbe agito per legittima difesa per difendere le sei persone che erano in casa con lui non potendo fuggire all'esterno. La casa resta ancora inagibile, saranno ulteriori sopralluoghi tecnici a stabilire se sarà recuperabile. Per questo a San Polo il parroco ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia.